Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. L'apertura la dedichiamo, un'ampia pagina, a dire la verità, alle condizioni del tempo in costante evoluzione, soprattutto nelle prossime ore è attesa questa ondata di gelo e maltempo. In particolare domani, domani sera in particolare, dovrebbe arrivare la neve nella nostra regione. Precipitazioni che, come annunciato dagli esperti, arriveranno anche a bassa quota. Le province di tutto il territorio abruzzese hanno già disposto i piani per garantire la viabilità e la sicurezza. Francesca Romana Testi. Neve in arrivo per l'Abruzzo, la notizia ormai è stata diffusa da esperti meteoistituzioni che hanno già organizzato la macchina amministrativa per garantire la percorribilità delle strade in tutta la regione. La provincia di Pescara ha già iniziato con i mezzi spargi sale. Nell'entroterra, oltre alla neve, l'attenzione è concentrata sulla formazione di ghiaccio e in città prosegue la potatura degli alberi per evitare danni a persone e cose. Abbiamo, diciamo, le risorse, non solo come provincia di Pescara, ma tutte e quattro le province d'Abruzzo, altrimenti avremmo avuto difficoltà a programmare ogni tipo di intervento utile. Abbiamo, appunto, avviato una concertazione con gli operatori che hanno risposto alla manifestazione di interesse, sono 28 gli operatori individuati dalla provincia di Pescara, abbiamo 10 nostri cantonieri già pronti a intervenire sulla viabilità e quattro mezzi della provincia che sono appunto funzionali alle operazioni di sgombero neve e comunque di pronto intervento. Accanto a questo abbiamo chiaramente un deposito di sale a disposizione abbastanza consistente, più di 170 tonnellate di sale disponibile e abbiamo allertato anche i colleghi sindaci perché laddove ci saranno delle precarietà saranno anche loro a collaborare con la provincia segnalando, ecco, in base al piano neve che abbiamo predisposto, tutte quelle che saranno, diciamo, le eventualità che possono arrecare qualche difficoltà in qualche tratto di strada provinciale che chiaramente porta ai comuni della provincia stessa. Pronti anche i consigli delle associazioni ambientaliste che rivolgono un appello ai cittadini ricordando che con il depositarsi della neve diventa impossibile il reperimento di cibo e acqua per molte specie. L'invito è quello di lasciare piccole mangiatoie su balconi e terrazzi anche in zone riparate. Appello anche dalla Ruzzoreti di Teramo che spiega come adottare accorgimenti utili a non interrompere il servizio idrico, in casa, coibentare i contatori e se necessario procedere a riscaldarli con FON e diffondendo, per chi ne avesse bisogno, un numero verde per le emergenze, l'800 064 644. Il Comune di Chieti ha dedicato una pagina nel sito ufficiale dell'ente con i consigli per affrontare la neve avendo disposto già da tre mesi il piano e dando priorità alle grandi arterie della viabilità per garantire il raggiungimento delle scuole. Uomini e mezzi per rimuovere la neve saranno garantiti senza limiti per evitare difficoltà. Importante è anche l'azione del Governo regionale che ha destinato somme alle amministrazioni per poter affrontare l'emergenza. E se la neve è attesa per domani a bassa quota è invece già arrivata sul Gran Sasso. Gli operatori turistici sperano che l'Epifania porti un po' di ristoro alle attività martoriate da un dicembre molto caldo. Germana Dorazio. Se il Natale è stato assolato la Befana porta la neve in cima al Gran Sasso e Campo Imperatore, unica stazione rimasta chiusa per le festività, potrà aprire le piste in questo fine settimana. Nella notte la neve è caduta abbondante fino a lambire la città, ha imbiancato il Gran Sasso così come il Monte Calvo. Alla prima neve sul Monte Calvo, vendi le capre e metti il mantello, dice il vecchio adagio aquilano. La speranza è dunque che l'abbassamento delle temperature e la paventata ondata di freddo in arrivo per l'Epifania aiuti a recuperare tanto del turismo montano perso nel caldissimo dicembre che ha chiuso il 2016. Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile, in considerazione delle previsioni meteorologiche, prevede nella giornata di domani 5 gennaio e fino alla mattinata del 7 gennaio nevicate su gran parte dell'Abruzzo. La neve interesserà inizialmente i rilievi appenninici fino a quote collinari e nella notte tra il 5 e il 6 gennaio anche le località del litorale. La neve arriverà grazie ad una veloce discesa di area artica attualmente posizionata sulla Norvegia che interesserà il bacino adriatico e tutte le regioni balcaniche, associando dunque alle nevicate anche venti di forte bora che potranno causare le mareggiate lungo le coste d'Abruzzo. La pioggia e la neve che sono tornate a cadere in queste ore sono una manna dal cielo non solo per gli operatori turistici delle stazioni scistiche ma anche per il lago di Campotosto. Il bacino artificiale più grande d'Abruzzo in provincia dell'Aquila ieri appariva semiprosciugato. Qualcuno ha pensato che potesse trattarsi di misure adottate per scongiurare rischi legati alla tenuta sismica della diga visti i recenti terremoti. Invece tutto è dovuto agli effetti della mancanza di precipitazioni. Secondo i dati forniti da Appennino Ecosistema, dicembre è stato il mese più asciutto degli ultimi dieci anni visto che è piovuto il 10% di quanto piove mediamente sull'Appennino centrale. Un fatto clamoroso se si pensa che negli ultimi 50 anni sulla stessa area le precipitazioni medie hanno subito un decremento del 20%. L'abbassamento del livello del lago di Campotosto tuttavia non desta particolare preoccupazione sotto il punto di vista naturalistico essendo un bacino artificiale. Restiamo in provincia dell'Aquila o meglio torniamo nel capoluogo. Guido Liris, consigliere comunale di Forza Italia, contesta spramenti i nuovi vincoli apposti nelle aree del Gran Sasso dalla regione impediscono lo sviluppo turistico, dice Liris. Con la delibera di giunta di fine dicembre che converte i siti di interesse comunitario le zone di protezione speciale in zone a conservazione speciale, Caro D'Alfonso ha ucciso l'Aquila e tutte le possibilità di turismo su cui erano riposte le speranze di giovani imprese e attività commerciali. E' questo l'incipit della lettera aperta al presidente della regione Luciano D'Alfonso del consigliere di Forza Italia al comune dell'Aquila Guido Quintino Liris. Con l'ennesima colpevole e sospetta assenza del vicepresidente Lolli, dice Liris nella lettera, con questo provvedimento si rende di fatto impossibile il percorso di revisione dei vincoli che ad oggi impediscono lo sviluppo del Gran Sasso. A dispetto delle migliaia di firme raccolte dal comitato Save Gran Sasso, con la delibera 877 del 2016, viene posta la parola fine allo sviluppo del comprensorio sciistico di Campo Imperatore. I disagi, secondo Liris, non riguarderanno solo il turismo invernale, ma anche quello estivo o comunque non legato allo sci, dai divieti relativi al parapendio, a quelli sull'arrampicata, ai divieti all'uso di droni e i divieti per la caccia e la pesca. L'allarme lanciato da Liris risiede anche nelle misure che regolamentano il transito del pubblico anche a piedi, dell'impossibilità di ripulire fontanili senza autorizzazione, dell'impossibilità di realizzare manufatti ex novo al fine di evitare anche minimi consumi di suolo. In compenso, conclude Liris, viene incentivato l'uso delle bestie da Soma come il mulo. Torniamo sulla costa, ancora difficoltà per la marineria di Pescara che attende l'annunciato abbattimento della diga foranea, causa dell'inseppiamento del porto canale. Nell'attesa c'è un altro problema da affrontare, l'arrivo dell'ondata di maltempo che mette in pericolo le imbarcazioni ormeggiate in porto. Vediamo. Dal 2012 la marineria di Pescara vive in uno stato di precarietà e difficoltà economica. Lo stop arriva a causa dell'insabbiamento del porto canale che ha reso impossibile il normale accesso delle imbarcazioni, con danni riportati ai mezzi e il blocco delle attività di pesca per tante famiglie che hanno fatto di questo mestiere il proprio mezzo di sostentamento. La notizia tanto attesa era quello dell'abbattimento della diga foranea a causa dell'insabbiamento. Marzo è il mese fissato per la svolta. La situazione è molto grave, seguita da gravarsi giorno per giorno. Dire che poi il taglio della diga foranea sia una necessità è una cosa giusta. certamente avrà dei pro e dei contro, però nel frattempo con il taglio della diga, con la diga soffolta, con tutto quello che prevede il piano regolatore portuale qualcosa si muove. Noi come associazione armatori punteremo subito allo svuotamento della vasca di colmata perché solo svuotando la vasca di colmata poi questo permetterà un ulteriore dragaggio e a discapita di quante altre gente ci rema contro perché non si sa che cosa va trovando tra tutte le cose che comportano il piano regolatore portuale. Noi andiamo dritti per la nostra strada perché intanto si muove qualcosa e per noi è fondamentale. Restano difficoltà economiche e restano continui danni per chi cerca di portare avanti tra le tante difficoltà quel lavoro. Nei prossimi giorni attesa neve e venti forti è una nuova prova di resistenza per gli uomini della marineria. A Pescara siamo 200 famiglie su 50 imbarcazioni e quindi la situazione è... Certamente non possiamo ritornare al 2012-2013, questo è fuori discussione. Laddove si dovesse creare una situazione come il 2012-2013 dove le nostre imbarcazioni sono costrette a rimanere agli ormeggi per l'impradicabilità del porto, poi sapremo a chi andare a cercare. Nessuna soddisfazione per il Codacons dopo il bilancio delle operazioni di indennizzo forfettario da parte del Fondo Interbancario in favore dei risparmiatori delle vecchie banche Etruria, bancamarche Carife e Carichietti che ha portato finora a rimborsi per 35 milioni di euro e rimborsi parziali pari all'80% del valore delle obbligazioni azzerate rappresentano solo l'ennesima ingiustizia a danno dei risparmiatori, spiega il Presidente Carlo Rienzi. Solo pochi fortunati, prosegue, riusciranno infatti ad avvalersi degli indennizi e una larga fetta di obbligazionisti sarà tagliata fuori, pur in presenza di danno identico per tutti. Si tratta poi di rimborsi elemosina perché a fronte di un danno per i titolari di obbligazioni subordinate delle quattro banche pari a 431 milioni di euro sono stati finora liquidati appena 35 milioni di euro. La battaglia del Codacons a tutela dei risparmiatori si legge in una nota prosegue nelle aule dei tribunali nell'ambito dei vari procedimenti aperti dalla magistratura. L'associazione infatti ricorda ai piccoli investitori che hanno visto azzerato il valore delle obbligazioni subordinate che è possibile aderire alle azioni risarcitorie avviate dal Codacons. Hacker in azione su alcuni siti istituzionali dei comuni abruzzesi sotto attacco in particolare sette siti nella nostra regione mentre sono stati oltre 100 a livello europeo. Gli hacker appartengono al gruppo fondamentalista islamico di Anonymous Arab il servizio di Alfredo Primante. Sito offline sfondo con l'inconfondibile tema di Anonymous Arab ed una musica orientale ipnotica. Questo l'attacco hacker di un'organizzazione islamista molto attiva in occidente che mira a lanciare messaggi per dimostrare la propria esistenza e combattere l'invasore occidentale e per farlo usa la via informatica. L'organizzazione è attiva da diversi mesi e si ispira agli ideali arabi e alla cultura musulmana rigettando la cultura e i principi occidentali e filo israeliani. La questione palestinese è risolta da 80 anni e l'odio per gli israeliani considerati usurpatori sono i temi fondanti di Anonymous Arab riproposti a livello globale per mezzo della rete. Ieri gli hacker hanno attaccato numerosi siti circa un centinaio di cui una trentina in Italia e circa sette in Abruzzo. Hanno fatto sparire infatti il sito del comune di Montesilvano ma anche quello di Mozzagrogna, quello di Roccascalegni e Castelfrentano. Sotto attacco anche alcuni altri siti di imprese private come quello di un'agenzia di viaggi o di una officina meccanica oltre a qualche studio di avvocato. Il messaggio impresso nella nuova home page dei siti hackerati recita Saluti mondo, siamo Anonymous Arab, Medio Oriente Cyber Army siamo qui per consegnare solo un messaggio siamo musulmani e noi siamo orgogliosi il Corano è il nostro libro crediamo in Allah, per Allah lavoriamo morte Israele, Palestina libera, Gerusalemme è nostra. Impossibile dire come scelgano gli obiettivi da colpire con molta probabilità e solo frutto del caso. Il sito del comune di Montesilvano e quello di Castelfrentano da questa mattina sono nuovamente online mentre risultano offline quelli di Mozzagrogna e Roccascalegna. Conferenza stampa di fine anno per il sindaco di Lanciano Mario Pupillo che ha tracciato il consuntivo del 2016 e le linee guida della sua amministrazione per il nuovo anno il 2017. Vediamo. Lanciano città dei servizi per il comprensorio il sindaco Mario Pupillo confermato dalle urne a giugno 2016 traccia il bilancio delle attività dell'ultimo anno e rilancia il programma di governo con i lavori pubblici eseguiti e quelli da fare per circa 4 milioni di euro impegnati una variante al PRG per la realizzazione del nuovo ospedale e la chiusura da scongiurare del tribunale. Non ci rassegniamo a detto Pupillo assieme agli assessori in conferenza stampa nella sala consigliare chiudere il tribunale di Lanciano per accorparlo a quello di Chieti significerebbe far spendere 10 milioni di euro alla collettività. Sono i temi del primo mandato che poi abbiamo trasferito nella variante al PRG, cioè la città che ha dei temi fondamentali il turismo, il commercio, la città dei servizi è una città che è rispettosa dell'ambiente quindi città dei servizi significa che non ci possiamo privare del nostro tribunale, che abbiamo bisogno di un ospedale nuovo e abbiamo inserito l'Inps all'interno della struttura del Palazzo degli Studi, quindi servizi ai cittadini e al territorio. Abbiamo in cantiere 4 milioni di opere pubbliche che si armonizzano con questo piano strategico quindi la pista ciclopedonale di Via del Mare che poi continuerà dentro l'ippodromo e infatti anche le tribune sono oggetto di intervento. C'è poi l'idea del tram cittadino su proposta di Tuo all'azienda di trasporto unico regionale da realizzare sull'extracciato ferroviario della Sangritana. Aver sposato il concetto di mobilità sostenibile con il tram nel vecchio tracciato ferroviario che Tuo metterà in azione nel prossimo 2018, sono tutti segnali che dicono che c'è un piano strategico che la mia squadra sta portando avanti e che certe volte può anche non essere così popolare anzi certe volte sforiamo l'impopolarità come con la ZTL e con le ciclovie ma noi siamo tranquilli perché spesso i cambiamenti vengono subiti in maniera così non adeguata e poi il tempo magari ci darà ragione. Tutto questo per dire che questa città ha fatto dei cambiamenti enormi e sta viaggiando in un periodo estremamente complicato e difficile verso una collocazione all'interno del concetto di smart city cioè città accogliente, città sostenibile, città inclusiva noi non abbiamo paura degli immigrati, vogliamo inserirli all'interno di un percorso di integrazione. Proseguiamo con una notizia, rispondono ai nomi del gruppo Nord da Acque Minerali di Lecco, dei fratelli Pessina titolari di marchi nazionali come la San Gemini, la Monticchio Gaudianello e tra l'altro editori dell'unità e dell'associazione temporanea di impresa composta dalla Bruni Industry SRL e dalla Edilcomar che secondo alcune voci avrebbe alle spalle anche un gruppo arabo. I due partecipanti fino ad oggi sconosciuti al bando di gara per la concessione della sorgente Sponga di Canistro i concorrenti tutti ritenuti dalla Commissione accoglibili e ricevibili sono quattro, accanto alle due citate ci sono la Acqua SRL dell'imprenditore avezzanese Mastro Cesare e la italiana Beverage, quest'ultima del gruppo Colella società che controlla la Santa Croce S.p.A. che aveva la concessione prima del nuovo bando e che ha presentato ricorso al TAR contro il bando e che in corso da oltre un anno un pesante contenzioso con il braccio di ferro con la Regione. Nella prossima riunione, probabilmente il 12 di gennaio la Commissione presieduta dalla dirigente del Servizio Risorse del Territorio e Attività Estrattive della Regione, Iris Flacco esaminerà la documentazione rispetto al requisito dell'ammissibilità. Successivamente in un'altra seduta verrà aperta la busta B per valutare la completezza documentale e poi sarà nominata la commissione di valutazione che dovrà aggiudicare l'ambita concessione. Il commercio a Teramo sta vivendo una crisi profonda e per i commercianti non saranno i saldi che partono domani o la fiera della Befana di oggi a poterne risollevare le sorti. Intanto la città perde pezzi importanti. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il commercio a Teramo è decisamente fuori forma. Un anno di lavori sul corso principale non ancora conclusi. Il terremoto che ha svuotato la città a favore della costa e una crisi strutturale complessiva hanno messo in ginocchio l'economia cittadina teramana. Il Natale ha portato solo un lieve sollievo ai commercianti che sperano però di recuperare con i saldi. Per i saldi che si preannuncia? Cerchiamo di recuperare forse quello che si è perso proprio perché molte persone aspettano anche un po' i saldi. Partiranno domani quindi neve permettendo perché abbiamo anche l'incogna e tanto quest'anno non ci siamo fatti mancare nulla. Lei dice che non è tanto il problema del commercio quanto di questa città? Sì, qui devo dire che dovrebbero essere chiamati in molti intorno a un tavolo per parlare di questa città ma soprattutto per cercare di risollevare le sorti di questa città perché qui bisogna davvero capire che Teramo in questo momento sta soffrendo e sta soffrendo davvero tanto. È brutto ammetterlo ma sembra ormai esserci abituati ad ascoltare l'elenco di cose che proprio non funzionano nel commercio teramano. Ma poi ecco che arrivano segnali che sono un pugno allo stomaco. Un prestigioso negozio di Teramo, la gioielleria allo scrigno dopo 55 anni di attività chiuderà per trasferirsi a Pescara segnali che fanno capire che si sta toccando il fondo. Dopo 55 anni lei decide di andare via da questa città? Io non ho deciso di andare via non abbandonerai Teramo per nessun motivo e che purtroppo la protezione civile ha reso inagibile questo locale tutto il palazzo, tutto grado è quindi il rischio crollo e sono costretto ad uscire nel più breve tempo possibile. Il commercio soffre già da qualche tempo un anno di lavori del corso, insomma, hanno inciso anche? Il commercio ormai a Teramo soffre da dieci anni, non da un anno, non da due. Sicuramente i lavori del corso hanno inciso gravemente sfregiando la città in una maniera indelebile. Però adesso non farei la solita polemica sul problema dei lavori. La città di Teramo soffre da dieci anni in questa parte per una serie di mancanze strutturali, organizzative, politiche. Ma non è che poi rimane per sempre a Pescara? Chi lo sa? Faccio l'esperienza di Pescara e mi auguro di rimanere Teramano per tutta la vita. Il comune di Pescara, solidale con le popolazioni terremotate delle Marche dopo le iniziative rivolte a Pescara del Tronto. Oggi cerimonia dedicata agli abitanti di Arquata che trascorreranno una giornata in città tra tradizioni locali e gastronomiche con il sostegno di molte associazioni pescaresi. Una giornata dedicata agli abitanti di Arquata del Tronto che dal 24 agosto scorso non hanno più una casa e vivono lontani dai propri amici, dai luoghi che da sempre hanno costituito un punto fermo nelle loro vite. Il comune di Pescara, insieme ad alcune associazioni ha voluto accogliere e ospitare tutti coloro che non hanno potuto trascorrere un Natale familiare per farlo hanno scelto di mettere in campo tutto il calore abruzzese. Il comune di Pescara vuole sostenere quella che è un'iniziativa di alcune associazioni del nostro territorio come Spazio Donna, le associazioni dell'artigianato le associazioni della pesca e varie associazioni che hanno voluto insieme proporre questa iniziativa, questa giornata particolare e bella di accoglienza proprio a queste popolazioni. Quasi cinque mesi da quel terremoto e dopo la corsa per l'emergenza ancora tardano a partire i lavori di ricostruzione e il ripristino della normalità. Curare un vuoto così grande non è facile ma l'Abruzzo, che ben conosce la drammaticità di un evento così distruttivo non smette di far sentire la propria presenza. E sono anche divisi rispetto a quelle che erano le amicizie che avevano nel loro piccolo borgo quindi non sono capitati negli stessi hotel perché con l'ordinanza di sgombero sono partiti così e quindi sono rimasti così. Quindi c'è anche questo discorso del distacco anche dalle amicizie che avevano oltre che dagli affetti e dai luoghi. Il Centro Sperimentale di Cinematografia lancia un concorso video e fotografico per gli studenti delle superiori. L'iscrizione è gratuita. Vita di scuola e scuola di vita crescere e studiare all'Aquila e questo è il tema suggerito agli studenti degli istituti di istruzione superiore per partecipare al concorso video e fotografico promosso dalla sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema. La prima edizione nel 2016 ha riscosso una buona partecipazione da parte degli allievi. Alessio Placidi dell'Istituto Amedeo d'Aosta è stato il vincitore assoluto disegnato dalla giuria. Ex equo, il secondo premio è stato assegnato a Francesca Pileri del Liceo Cotugno e al gruppo di quattro studenti dell'Istituto Muzzi Federica Brizzi, Chiara Cesarini, Alessandro Di Maio, Francesco Iavernano, Alice Giordano del Liceo Bafile e ha conquistato il terzo premio. Il tema scelto quest'anno chiede di raccontare con foto e video uno o più momenti della giornata di chi studia all'Aquila. Gli scatti e i video potranno essere realizzati nella struttura scolastica o anche al di fuori. Il concorso è rivolto agli allievi delle classi terze, quarte e quinte e non richiede una preparazione specifica nell'ambito del video o della fotografia. La selezione delle opere vincitrici privilegierà infatti l'attinenza al tema del concorso e l'originalità nell'interpretazione. Come nella scorsa edizione tutti i partecipanti saranno protagonisti di una mostra collettiva e i vincitori otterranno pubblicazioni sul cinema e sulla fotografia e potranno trascorrere una giornata nella sede storica del Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma. È possibile richiedere il bando di concorso all'indirizzo l'aquila-chiocciola-fondazione-csc.it o negli istituti scolastici. Il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 31 gennaio 2017. La partecipazione è totalmente gratuita. E ora apriamo la pagina dello sport. Parliamo subito di Pescara che ha sostenuto stamani l'unica seduta prevista per questa giornata e stamani era presente anche l'ultimo arrivato in Casa Bianca Azzurro ovvero il difensore Cesare Bovo che arriva dal Torino. Allora vediamo il servizio con anche gli ultimi sviluppi di mercato. Dopo Guglielmo Stendardo e Alberto Cerri ecco Cesare Bovo il 33enne difensore già in Abruzzo per iniziare la sua nuova avventura in Riva all'Adriatico. Con l'arrivo dell'ex Granata il Pescara ha praticamente chiuso il rafforzamento del settore arretrato almeno per il momento considerando che a Massimo Oddo non dispiacerebbe avere un altro esterno inorganico. Il pallino del tecnico pescarese Riccardo Fiamozzi il Genoa chiede soldi per il prestito senza considerare che il giocatore Ligure è finito anche nel mirino del Frosinone che potrebbe strapparlo ai Biancazzurri. In partenza due fracoda Zuparic e Ghiomber che potrebbe tornare alla Roma dovrebbe invece restare Davide Vitturini e a proposito di cessioni c'è da registrare il passaggio del baby Francesco Mele classe 98 al Torino vicino invece il trasferimento del portiere Mirco Pigliacelli al Trapani per il centrocampo i dirigenti adriatici non hanno fretta mentre tutte le attenzioni sono proiettate sull'attacco con Pettinari e Manai ai saluti dopo l'arrivo di Cerri si punta ad un bomber più esperto il primo nella lista al di là delle smentite di circostanze e Alberto Gilardino che vuole chiudere al più presto la negativa esperienza di Empoli c'è il Sidi Oddo anche se Paloschi e Denis rappresentano delle alternative più che credibili non verrà invece a Pescara l'ex lancianese Tiam da valutare la permanenza in biancazzurro di Jean-Christophe Baybeck rientrato a Pescara nelle ultime ore ma domenica prossima sarà di nuovo campionato con la squadra che prosegue la preparazione al poggio degli ulivi in vista della gara con la Fiorentina Verre Out per l'influenza fuori anche Pepe diversi giocatori che continuano ad allenarsi ai margini della prima squadra domani prove generali in un amichevole con il San Nicolò parliamo ora di Lega Pro e di Teramo il centrocampista della San Benedettese Luca Berardocco è entrato nel merino del DT Teramano Alec Bolla intanto sembrano rientrare i propositi di cessione del difensore Nebil Kaidi non mancano i nodi da sciogliere per il direttore tecnico Teramano Alec Bolla al lavoro per ristrutturare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Lamberto Zauli non sono operazioni facili quelle vagliate in entrata per gli attaccanti Nicolò Romero l'aerone della Feralpi Salò e Andrea Ferretti del Trapani in un'intervista il DS della Feralpi Salò Olli ha confermato che lo stesso Romero che è in uscita dal club bresciano ha ricevuto tante richieste tra le quali quella del Teramo lo stesso Olli ha anche fatto intendere che la Feralpi insegue Andrea Ferretti e quindi per questa pista è in competizione col diavolo Ferretti è un centroavanti di buona personalità e nella stagione 2013-2014 fece male al Teramo segnando al Bonolis prima con la maglia del tutto cuoio poi con quella del Poggi Bonzi consentendo alle due squadre toscane di portare a casa altrettanti pareggi lasciando Trapani vorrebbe riavvicinarsi a casa nel nord e questo complica i pieni del Teramo per il centrocampo il nome delle ultime ore è quello di Luca Berardocco il centrocampista mancino pescarese e cresciuto nelle giovanili del Delfino potrebbe lasciare la San Merenetese e approdare la corte del Diavolo diventando il metodista da schierare davanti alla difesa consentendo l'eventuale avanzamento di Carraro anche se una mediana del genere potrebbe risultare troppo leggera per una squadra che deve salvarsi e che in campo dovrà lottare allo strenuo in ogni partita ovviamente la dirigenza del Teramo è al lavoro anche sul fronte delle uscite attraverso il Pescara Luca Forte sta per accasarsi in Serie B al Carpi col presidente del Delfino Sebastiani andrà anche verificata la possibilità di far partire Bulevardi destinazione Perugia sempre in cadetteria nelle ultime ore sempre dalla B sembrerebbe esserci un timido approccio della Latina per Alessandro Di Palantonio tra i più positivi nell'ultimo mese del Teramo l'ex tecnico Vivarini sarebbe contento di riaverlo alle sue dipendenze ma non sarà facile sembrano rientrare i propositi di dare il ben servito a Nebil Kaidi la volontà della società dovrebbe prevalere sulla richiesta del tecnico Zauli che comunque farebbe bene a sfruttare quella che è una risorsa per il Teramo e non una criticità parliamo di Serie D in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega Nazionale di Lettanti domenica non si giocherà la partita tra Chieti e Vastese dopo il ritiro dei Neroverdi verranno tolti i punti a tutte le squadre vittoriose nel girone di andata vediamo il definitivo forfè del Chieti che non scenderà più in campo è destinato a cambiare almeno parzialmente gli scenari del girone F di Serie D in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega Nazionale di Lettanti infatti da domenica prossima giorno di ripresa del campionato dopo la pausa natalizia ogni settimana una squadra osserverà un turno di riposo e l'8 gennaio toccherà la Vastese di Gianluca Colavitto che non giocherà così il derby del Guido Angelini con i Neroverdi una volta che il ritiro dei Tiatini sarà sancito ufficialmente la Lega di Lettanti provvederà a cancellare a tutte le squadre del torneo i punti conquistati fino ad oggi contro il Chieti la squadra di Mariani ha perso tutte le gare giocate tranne quella di recupero con il Monticelli che terminò in parità di conseguenza le squadre vittoriose con i Neroverdi si vedranno decurtare tre punti in classifica anche se poi di fatto le posizioni resteranno praticamente immutate ma non è tutto perché la Lega disporrà d'ufficio lo svincolo automatico di tutti i giocatori tesserati con la società Chietina e a Chieti da domani si inizierà a pensare al futuro con la ripartenza la prossima stagione dal torneo regionale di eccellenza è tutto per questa prima edizione del TG6 le prossime edizioni alle ore 19 e alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti